dai 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 no ragazzi perché perché arioooo o va allora te non smettere la morte azzoo azzoo lascio un barren la circolazione mazzini tu tu mi esci tu mi esci tu mi esci no io stavo stuporito l'accompagnato arreda la macchina ora siamo allai aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa Elma mi venga caduta in mosso che fai la merda col capallo fai tu tu ma lei ma non si no jeliskun se a pizzato sta roba di svitato quando si a vittano a me di tu a pizzino e non a pizzino e ma be si a tappi da ruolo PRIME OHHHH ma se vannate a******* la cosa nel momento più importante torna signore giro erano 58 giorni che lo perde completamente gran palla di pulisi che poi di testa lui è bravo a prendere soprattutto il tempo il giro è una torsia grafica il giro è una torsia grafica non viene a mandare la stanza e bloca in una proposta bere che c'è stai con bianna bere bere che c'è stai con bianna ecco c'è stai con bianna mi saliato la parola perché la mia amore ancora mi scaldi qui ma basta oggi si basta bravo vai ma 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 di missioni di essere esonerati la squadra che devo controllare devi scappare da napoli ma la metterà scusate e vai ociuaua madri e tomano tu ociuaua acavà 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 vieni a un po vieni a capire acavà vieni a capire mi sto dicendo che non le prego e poi salvi e mettemmi e mettemmi la roba proprio l'abc prego oh vai castigami vado 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 fuori fuori cercate te prego c'è che devi farmi fare un'arquata c'è che devi farmi fare un'arquata GO! ma si fa sempre anticipo c'è mai simma fuoco e a chi sto vado 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 saluta vado 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 Giro l'abbiamo fatto a fare il gol con tutta la terra Ok? Ternandense ne vengono da bucate Magno ci ha regalato il gol Non battiamo a nessuna squadra forte E dalla prossima partita non voglio prendere più a me rettere in dei pò La parte mia Questo è un sconfitto, non vuoi dimenticare il primo tempo Potremmo prendere 5-6 pallone Gianni Morandi deve andare via da Napoli Degmi, poverite voi Per me se ne vede a Napoli Ciao